Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, torniamo a parlare dell'accorpamento delle camere di commercio, la politica siracusana interviene e dice è una vergogna siracusa attesa per martedì la riunione del Consiglio dei Ministri in cui dovrebbe essere ratificato il parere della conferenza Stato-Regioni sull'istituzione della Camera di Commercio del Sud-Est Catania Siracusa-Ragusa, 30 giorni entro i quali l'assessore regionale e le attività produttive Mariella Lobello dovrà insediare a Catania il nuovo Consiglio Camerale. All'indomani del no alla richiesta di revoca dell'accorpamento in ambito locale il dibattito si fa ancora più acceso tra i pro e i contro, ma soprattutto si corre all'individuazione le responsabilità della debacle di associazioni datoriali e parlamentari siracusani. Dopo la porta Autority e anche la Camera di Commercio, Siracusa annesta a Catania per volere i due esecutivi a guida PD che stanno depredando la provincia. La nota critica mossa dalla parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo che ammette avevamo coltivato la speranza che il ministro Calenda fosse più solito nelle convinzioni a suo tempo maturate. Tutto ciò non è stato ritenendo più agevole invece piegarsi a logiche di sotto bottega. Per l'ex ministro insomma Siracusa svenduta anche da una regione matrigna e ambigua, complice nello scippo, oltre che protagonista principale in queste ore della drammatica crisi che ha gettato nell'angoscia oltre 600 famiglie di dipendenti dell'ex provincia. Anche per il senatore Bruna Licata bisognerà avere tanta pazienza, aspettare tempi migliori e soprattutto le nuove elezioni per vedere restituito il mal tolto così come accade dopo il madestro tentativo di portare via anche l'Inda. Un cinismo senza limiti continua a Licata con una provocazione superficiale, non curanza, non si è tenuto conto neanche dei propri rappresentanti del territorio. E mentre il presidente di Confommercio Sandro Romano invita tutte le parti interessate ad un dibattito, il presidente di Casa Artigiani Michele Marchese, che per questioni anagrafiche sarà il primo a presiedere la nuova Super Cancom, rompe la consegna del silenzio. La politica non può mischiarsi nelle vicende che riguardano solo le imprese. Per tanti anni sono stato zitto perché credo nella giustizia. Adesso bisogna solo aspettare a norma di legge e la conferenza non ne ha violato alcuna. Ex-Province, l'attesa è per i fondi che devono arrivare da Palermo, intanto sono in ballo i criteri di distribuzione. Ex-Province regionale di Siracusa, una lunga attesa per i dipendenti che attendono ancora gli stipendi, in ballo i criteri per la distribuzione dei fondi, proprio all'ex-Province, oggi liberi consorsi. Pena trascorso un mese durissimo per quanto riguarda la provincia di Siracusa. Tantissime proteste, attese, importanti da Palermo, dalla Commissione arriva adesso notizie di 23 milioni che dovrebbero essere distribuiti sulle province siciliane. Secondo quali criteri? I criteri sono stati adottati dalla Commissione riguardo innanzitutto i mesi, da quanti mesi i dipendenti non percepiscono lo stipendio, a quando ammontano i mutui, a quando ammontano i debiti delle province, se hanno meno società partecipate e se i lavoratori delle società partecipate hanno ricevuto meno lo stipendio. Di quella che era l'originaria proposta del Governo, cioè di 18 milioni di euro, la Commissione, così come aveva anticipato, l'ha portato sul mio emendamento a 23 milioni, sui fantomatici 11 milioni di euro non ci sono mai stati, perché la Commissione non può per la seconda volta destinare risorsa a una provincia a discapito delle altre, ovvero che su questa vicenda la Corte dei Conti è stata chiarissima. Di conseguenza abbiamo stabilito dei criteri, per cui ricorrendo a questi criteri ci saranno province che non avranno possibilmente nemmeno un centesimo, ci saranno province come quello di Siracusa che potenzialmente potrebbero ottenere intorno a 10 milioni di euro e questa è una risposta concreta che abbiamo dato ancora una volta al territorio, una risposta in cui non abbiamo ingannato nessuno, non abbiamo prodotto parole, abbiamo prodotto fatti, perché i fatti sono importanti nella vita più che delle parole e a proposito dei fatti io vorrei invitare il Governo regionale a non perdere ulteriore tempo, ci sono ulteriori 25 milioni di euro che possono essere già destinate alle province, non si capisce perché il Governo non riesce a convincere i commissari che pure sono espressi in loro a dividere questi 25 milioni di euro. Attraverso questi 25 milioni di euro che potrebbero arrivare la quota alla provincia a fine mese, così come gli altri 2 milioni di euro, avremo la possibilità a fine agosto perché di questo purtroppo si parla di pagare almeno altre 3 stipendi. La promozione di libero consorzio comunale, il sindacato pressa perché da Palermo arrivino rassicurazioni ma anche dati su quando questi fondi arriveranno. Ex provincia regionale di Siracusa, una reazione di assestamento per pagare gli stipendi ai dipendenti ma anche per provare ad assicurare loro un futuro lavorativo secondo l'Ugelle provinciale, però la politica al momento avrebbe fatto soltanto promessa il prossimo passo per l'Enter e il fallimento. Dopo l'incontro in prefettura di cui eravamo lasciati con il vice prefetto romano che avrebbe fatto di tutto per avere notizie circa eventualmente a questa variazione di assestamento per quanto riguarda i dipendenti della provincia ma purtroppo sono state solo promesse non mantenute come tutte le promesse che nel corso di questi 5 anni sono state fatte da questa classe politica che non ha capito che la Sicilia ormai si trova sull'uolo quasi del fallimento ma soprattutto quello che ne spagano le conseguenze sono i lavoratori. Quindi spero che in questi ultimi mesi che rimangono di legislatura si renderanno conto e prenderanno coscienza che lasceranno dei sacchi di disperazione ma soprattutto i dipendenti della provincia di Siracusa e con questo tutti quelli collegati anche alla società partecipata senza nessuno spiraglio. Come ci hanno detto credo forse l'unica cosa che non è stata fatta ma non deve essere d'asclusa quello che è il fallimento. Solo col fallimento e il default della provincia possibilmente si potranno risollevare i dipendenti al di là di quello che ci va il costo perché i debiti accumulati sono tantissimi che non consentiranno di riprendere al di là di tutta la buona volontà che ci possono essere. Credo quindi che la politica ma soprattutto i rappresentanti regionali di questa provincia prenderanno coscienza e si impegneranno a dare risposta nel più breve tempo possibile ai lavoratori perché il dramma è talmente se succederà qualche cosa si ritroveranno sulla coscienza. Uso del cellulare alla guida alla Polizia Municipale intensifica i controlli. Vediamo cosa si rischia. Giro di vite della Polizia Municipale contro l'uso dei telefoni o di altri dispositivi durante la guida. Il comandante Enzo Miccoli ha infatti predisposto pattuglie di motociclisti in borghese con il compito di sanzionare in maniera capillare l'uso improprio del cellulare alla guida. L'uso del telefono cellulare e dello smartphone durante la guida è causa di gran parte degli incidenti stradali valuta l'assessore comunale alla Polizia Municipale Salvatore Piccione alcuni dei quali anche molto gravi. Il fenomeno sta assumendo proporzioni veramente preoccupanti ed è quindi bene che vengano controlli ancora più capillari e specifici per arginare questo pericolo. In applicazione dell'articolo 173 del codice della strada gli automobilisti sorpresi al cellulare durante la guida subiranno quindi una sanzione amministrativa che potrà andare dai 161 ai 647 euro e la decurtazione di 5 punti della patente. Questo vale anche nei casi in cui il guidatore sia fermo allo stoppo al semaforo considerando che in queste situazioni l'auto non si trova in sosta ma è in marcia. E' prevista la sospensione della patente di guida nei gas in cui lo stesso automobilista venga sorpreso nuovamente al volante con il cellulare nei successivi due anni dalla prima infrazione. Le pattuglie e moto montate della municipale stanno già operando in questa direzione su tutto il territorio comunale. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, la Cotini Bagni dove al 112 è arrivata una telefonata, un uomo ha chiesto immediato l'intervento dei carabinieri perché il cognato l'aveva assalito. I militari sono arrivati sul posto e per questo hanno arrestato Paolo Reale, 48 anni, che con un tubo metallico stava percotendo il cognato per motivi di famiglia. L'uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari. Giro di vita della Polizia di Stato contro il fastidiosissimo fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Agenti della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile della questura di Siracusa in questi ultimi giorni stanno intensificando i servizi per il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Maggiore attenzione è stata dedicata alle aree dove è autorizzata la sosta a pagamento come il piazzale Antissante, il Palazzo delle Poste, piazza Cesare Battisti e le Adiecenti, via del Mercato. Un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato sorpreso in piazza Battisti mentre chiedeva denaro ai proprietari delle autovetture in sosta. Il cittadino marocchino risultava però privo di un documento identificativo ed è stato denunciato. Allo stesso è stato contestata l'attività di parcheggiatore abusivo e ha sequestrato una somma di denaro probabile provento dell'attività vietata. Un 51enne della stessa nazionalità è stato denunciato per i reati di tentata estorsione e danneggiamento. Ubriaco doveva avere preteso da una donna che aveva parcheggiato in via Palermo una somma di denaro incassato il rifiuto l'ha minacciato con una bottiglia costringendola alla fuga. Infine in piazza Cesare Battisti controllati due soggetti extracomunitari intenti a chiedere denaro agli automobilisti sprovvisti di documento di riconoscimento. Ai due entrambi nati in Marocco è stata contestata la violazione di esercizio e l'attività di parcheggiatore abusivo e sequestrato del denaro provento dell'attività vietata. Temperature altissime, pericolo siccità. I carabinieri intervengono con una serie di azioni di prevenzione contro le criticità idriche individuati anche diversi furti d'acqua. Combattere il problema siccità e mancanza idrica nella provincia di Siracusa che grazie alla numerosa presenza di turisti nel periodo estivo vede aumentare in maniera esponenziale il numero di abitanti. L'arma dei carabinieri in questo periodo sta ponendo attenzione particolare alle attività di prevenzione e repressione finalizzata da un lato alla riduzione degli sprechi, dall'altro al contrasto di ogni forma di illecito, soprattutto il furto. La settimana i militari e le tre compagnie carabinieri provinciali, insieme al personale dei comuni e dei tecnici e le società cui è affidata la gestione del servizio idrico, hanno effettuato controlli in tutto il territorio verificando la regolarità dei contatori presenti presso le abitazioni ed esercizi commerciali, invitando inoltre i cittadini a limitare i consumi e a ridurre al minimo gli sprechi. In questo contesto, otto persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria quali indagati per il reato di furto aggravato, 121 controlli tra abitazioni private, alberghi e ristoranti con il deferimento all'autorità giudiziaria di una persona da parte dei carabinieri di Ortigia e della tenenza di Floridia, tutte collegatesi abusivamente alla condotta idrica pubblica. I militari di Augusta e del posto di Agnone Bagni, insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune di Augusta, hanno effettuato una serie di controlli specifici a campione sugli aillacci alla rete idrica comunale, in quella località balneare. Si è accertato che dei sette controlli effettuati tutti risultavano privi di contratto idrico senza alcuna documentazione relativa al contratto comunale per la fornitura d'acqua. Due di questi mai censiti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per furto d'acqua. Sono in corso accertamenti perché, pur non avendo misuratore regolare all'accio idrico, risultano censiti per il pagamento di una quota fissa annuale. Proiettato ieri nel cortile dell'ex provincia, un documentario sulla vita del genio siracusano Archimede. È considerato il primo scienziato dell'era moderna, attento conoscitore dei fenomeni naturali e delle leggi fisiche nascoste dietro di esse. Il genio di Archimede oggi viene raccontato attraverso il caleidoscopio dell'incredibile dal videodocumentario Io Archimede, che è presentato proprio nella città che ha dato i Natali al grande genio siracusano. Da dove nasce il progetto del libro e del documentario che vede protagonista il nostro concittadino? Ma Archimede merita molto di più di quello che fino adesso siracusa gli ha dato. E' stato sempre tenuto in soffitta, nella soffitta della storia. E noi abbiamo ritenuto importante invece metterlo dentro la storia moderna di Siracusa. Perciò un modo diverso di vedere un grande mito? No, Archimede merita rispetto, cosa che fino adesso Siracusa non ha avuto, secondo la nostra opinione. Quello che noi abbiamo realizzato l'abbiamo portato in giro per l'Italia, adesso lo porteremo in giro in altri paesi e riteniamo di fare un servizio storico importante per Archimede e per la città. Con quale occhi sia Cusani e non solo stanno vivendo e guardando queste immagini molto interessanti ma che toccano il cuore di ognuno di noi? Io credo che questa iniziativa sia giunta nel momento giusto e come dire un po' per quello che si è seminato in questi ultimi anni, anche appunto merito di Vittorio che ha sempre un po' fatto da apripista per quanto riguarda il recupero nella memoria della nostra città di Archimede. Ecco, adesso è arrivato forse il momento giusto perché realizzando questa serata qui al cortile di Via Roma del Palazzo di Governo ci siamo resi conto che c'è un interesse notevolissimo che sono tantissimi i nostri concittadini che vogliono partecipare e prendere parte a questa serata e lo stiamo vedendo e al tempo stesso sono tantissimi turisti che ci hanno chiesto di poter essere presenti e evidentemente c'è qualcosa che finalmente smuove i siracusani a far riconoscere in Archimede un proprio concittadino, una identificazione, un motivo di orgoglio e un recupero che era ora che arrivasse. Archimede è molto più stimato all'estero, abbiamo girato il documentario negli Stati Uniti e negli Stati Uniti è pure la festa di Archimede, diciamo, tra i 14, no? E noi a Siracusa, no, abbiamo suo Archimede in tutti questi anni abbiamo semplicemente intitolato una piazza, piazza Archimede. C'è un invito al riconoscimento di un grande siacusano e non solo? L'invito a dare ad Archimede il giusto riconoscimento che merita nella storia e nella scienza. Impegno Wiltec, Wilm e Feneal di Siracusa, il sindacato insieme, alcune vertenze pronte per dopo l'estate, si parla di ambiente, area industriale e anche politica degli appalti. Bene, con questo è tutto, il giornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. Tra poco la rubrica La Punto a Capo, oggi ospita il segretario generale Wiltec, si parla di zona industriale e del sequestro da parte della Procura. È tutto, vi salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.